Ciao a tutti ragazzi e benvenuti qui sul canale di BattleforGames, io sono Carlo e oggi siamo tornati sulla beta di Battlefield R-Line ragazzi la beta Open Beta che va dal 3 all'8 febbraio, lo ricordo ogni volta, così se volete scaricarla la potete scaricare direttamente da Origin andandola a cercare penso nel negozio normale, penso che sia subito nella home page e voi ve la volete scaricare subito senza fare nulla, è gratis ragazzi quindi andatevela a scaricare se non l'avete ancora scaricata e provatelo e sappiatemi dire com'è nei commenti ora iniziamo il video, ragazzi come vi ho detto nello scorso video continuiamo la serie delle nostre classi oggi ragazzi tocca al meccanico che è una classe abbastanza particolare, infatti adesso ne andremo a parlare subito e andremo a dire i pro e i contro di questa classe allora ragazzi il meccanico o il geniere chiamatelo come vi pare, cioè alla fine è la stessa cosa che era il geniere in Battlefield 3 o 4 e penso che si chiamasse geniere anche in Battlefield Bad Company sia l'1 che il 2, non ne sono sicuro, non ci detemi se ho detto una stronzata però ne sono quasi sicuro, non ne sono sicura del tutto però ne sono quasi sicuro comunque ragazzi il geniere o il meccanico è una classe che ha dei fucili, diciamo non sono proprio fucili d'assalto sono quei fucili, quelle armi che possono essere chiamate PDV anche, che sono quei fucili con la canna cortissima che possono essere utilizzate per un corto, medio, raggio al massimo cioè non sono per lunghe distanze diciamo infatti come potete vedere in questo video sto utilizzando il P90 che è una di quelle classiche armi veramente bilanciate che possiede appunto il meccanico o il geniere, anche in Battlefield 4 lo possedeva il geniere la differenza però, ho notato che in Hardline secondo me il P90 è un'arma che si può utilizzare molto più, in modo più facile cioè più facile da utilizzare secondo me in Battlefield Hardline io in Battlefield 4 non so perché il P90 non riuscivo ad utilizzarlo è un'arma che mi piace, che mi è sempre piaciuta in tutti i Battlefield però sinceramente in Battlefield 4 non riuscivo proprio ad utilizzarla mentre qui in questa beta sì, ho fatto molte stragi con quest'arma comunque ragazzi, oltre a queste PDV, questi fucili diciamo con le accorciati chiamiamoli fucili accorciati perché è un termine che va molto, che è stato molto usato credo di averlo inventato io al momento, vabbè hanno, è l'unica classe che ha il lancia granate o il lancia puffi come lo chiamano molte persone ovvero quell'oggetto che spara praticamente delle granate e fa implodere il mondo che in Battlefield 4 era molto utilizzato perché ce l'avevano quasi tutte le classi no? e infatti in Battlefield 4 c'era il macello tipo di mappe come Operazione Prigione o Operation Metro tutte quelle mappe chiuse lì, era il devasto più totale praticamente ti arrivavano granate anche da sottoterra cioè praticamente tu eri un campo minato praticamente di granate quindi in Battlefield 4 diciamo che era tutto uno spam mentre qui in Battlefield Darlan dato che ce l'ha solo il geniere diciamo ragazzi che è un gioco molto più bilanciato infatti penso che abbiamo fatto molto bene i sviluppatori a darlo appunto solo al geniere che può servire giusto non da spammare contro i nemici anche se cioè in casi proprio di pericolo cioè uno può uccidere uno con lancia granate non è ovviamente vietato però diciamo che è un'arma abbastanza overpower contro la fanteria mentre penso che sia il suo utilizzo utilizzarlo contro tipo le macchine in questa modalità oppure comunque ci si può provare contro gli aerei e gli elicotteri anche se non è proprio una cosa facile centrare un elicottero con un lancia granate è fattibile però non è una cosa da tutti cioè ci vuole un attimino quel tocco di skill che uno ha in più rispetto agli altri no capite? un altro gadget ragazzi che c'ha il geniere o il meccanico ragazzi è... può essere l'attrezzo riparatore che poi potete scegliere sinceramente tra moltissimi oggetti come potete fare ovviamente in tutte le altre classi però diciamo che il più classico che almeno c'è che c'era anche in battlefield 4 comunque è l'attrezzo riparatore che tutti voi sapete l'utilizzo che si deve fare di questo oggetto vero? non è quello di riparare i carri è quello di beccare la gente di spalle e fondergli la testa lo sapete benissimo cioè mi sorprendo che non l'avesse detto prima no? vabbè ragazzi comunque struttate da parte l'attrezzo riparatore sapete tutti l'utilizzo che bisogna farne che poi potete utilizzarlo come volete vi ho già detto e adesso ragazzi parliamo dei punti secondo me a sfavore i punti negativi di questa classe cioè che poi non ce ne sono neanche tanti devo essere sincero io penso che l'unico punto negativo che abbia questa classe sia il raggio ristretto di fuoco dell'arma principale ragazzi infatti queste pdv cioè a lungo raggio comunque anche già al medio lungo raggio veramente fanno veramente pochissimo danno e hanno uno spread di proiettili che cioè i proiettili non sono precisissimi diciamo così da lungo raggio infatti questa cosa qui magari è una cosa che vi può bloccare in mappe grandi come deserto infatti in questa mappa cercavo sempre di stare in zone abbastanza chiuse in modo tale che se beccavo dei nemici almeno ce li avevo a distanza a una distanza fattibile praticamente ragazzi e quindi niente ragazzi io questo penso che sia l'unico punto a sfavore del meccanico anche se sinceramente come ho detto all'inizio intanto vedete un elicottero ho cercato di fare un front flip però non ci è riuscito e vabbè no penso che l'unico punto a sfavore sia quello a me è sinceramente una classe che non mi piace tantissimo non la uso anche in battlefield 4 non la usavo spessissimo però oh ragazzi ognuno ha le sue preferenze io sinceramente uso moltissimo l'operatore o l'assalto e il cecchino o il professionista perché ovviamente hanno dovuto cambiare i nomi quindi adesso è molto fuori un casino allucinante comunque si ragazzi cioè è una classe veramente utilizzabile soprattutto per tirare giù dei carri e delle macchine proprio perché hanno questi lanciapuffi e niente ragazzi fatemi sapere qua sotto nei commenti cosa ne pensate di questo meccanico cosa ne pensate di battlefield darlin se l'avete provato se l'avete scaricato tutti i video che avete visto finora di battlefield darlin ovvero questo e quello precedente li ho fatti con la 970 così potete vedere anche gli fps come gira battlefield darlin su questa 970 gira assolutamente in maniera perfetta il gioco è completamente a ultra e in questo video vi ho messo anche i frame i frame rate in alto a destra e come vedete sta praticamente sempre sui 80 frame e con dei picchi anche molto più alti e tenete conto ragazzi che è una mappa veramente enorme da renderizzare cioè ci sono tutte le montagne e non è proprio un gioco da ragazzi per la scheda video e questa scheda video devo dire che si gestisce veramente molto bene niente ragazzi il video finisce qui io spero vivamente che vi sia piaciuto fatemi sapere come vi trovate col meccanico e cosa ne pensate di questo battlefield darlin come vi ho già detto iscrivetevi al canale per supportarci al 100% lasciate un bel like e poi ce l'ho fatta ragazzi a fare anche questo video ce l'ho fatta niente ci vediamo al prossimo video ragazzi ciao 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 ciao